Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo dall'aeromotorsport di Colico e sono qua con Jacopo per fare una gara. Faremo un gran premio, siamo stati messi dentro con altra gente perché eravamo solo io e lui se no e niente, ci siamo divertiti molto. Vi lascio il link della pista in descrizione e mi raccomando andate sul loro sito. Pronti a partire ragazzi, il semaforo verde. Attenzione, come ha fatto a partire così forte? Bisogna partire prima, non pensiamoci però. Stiamo indietro e cerchiamo di passarlo il prima possibile. Prendiamoli tutta la scia. Dai, 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 dobbiamo attaccare adesso all'interno. Grande sorpasso. Ragazzi, ora proviamo a scappare. Dobbiamo andarci, dobbiamo prendere il più vantaggio possibile per vincere questa gara. Ragazzi, stiamo attentissimi di questo rettilineo perché possono prendere tutta la scia e provare ad attaccarci, ad attaccarti con la rettilineo attenzione. Chiudiamo la porta, lasciamo il dire esterno e non passa, non passa, non passa. Ora ragazzi, basta girarci. Dobbiamo prendere il più vantaggio possibile sui miei seguitori. Grazie. Cori. 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 ok ragazzi abbiamo preso un po' di vantaggio stiamo girando molto bene sul passo del 18 e mezzo 18 basso cerchiamo di prendere ancora più vantaggio possibile così che se facciamo un errore abbiamo ancora margine grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Eccoci ragazzi sull'ultima salita. Entriamo in discesa, pronti per l'ultima curva. Bandiera a scacchi, vittoria, vittoria, vittoria. Grande gara, ciudata perché erano 13 giri in una pista da circa un minuto e vento. Però, grande gara. Grazie a tutti.